Il rosso baccia Martina trinca in palestra dopo averla ammanettata. Così non ha senso, fallo te perché tanto è la tua live, fallo te, fallo te, faccio io? Sì, sì, dai. Oh, s**t! Strano! Mi ha baciata! Sei la penitenza! Non mi scappi le manette. Per questo me le hai messe. S**t! Però l'hai consenziente diciamo ovviamente. Non ti è piaciuto? No, tu hai detto non mi è piaciuto, io ti ho detto no perché sì. No, no, però gli è piaciuto, però hai capito male. Ti è piaciuto? S**t! Aia! 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 Che succede? stai anche ridendo coglione guarda non puoi toglierle, sei ammaneduta vita